I carabinieri a Missilmeri hanno arrestato i pregiudicati Paolo Salemi e Santo Fauci. I due sono accusati di estorsione, mediante la tecnica del cavallo di ritorno, nei confronti di un imprenditore edile palermitano, a cui avevano chiesto una somma di denaro per restituirgli un autocarro rubato. Nei loro confronti, il GIP di Termini Merese ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo il furto subito, il costruttore era stato contattato dai due indagati, che gli avevano chiesto un riscatto di 2.500 euro per rendergli il mezzo. I due estorsori sono attualmente detenuti presso la casa circondariale Cavallacci di Termini Merese, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori attività di indagine dei carabinieri al fine di accertare se i due siano autori di analoghi episodi e non si escludono ulteriori sviluppi.